Fate un'aria a piacere, prego. Beh, non era proprio quello che intendevo, ma... E vuole farla lei, stellato, un'aria? Ah, un'aria... Ah, ok, ho capito. Vabbè, ognuno ha la sua interpretazione. Va bene, allora, adesso, nel panierino, no, già che purtroppo avete sbagliato, adesso vi danno un panierino. Guardate attentamente, all'interno del panierino ci sono due uova. Un uovo è sodo, l'altro no. Il primo che pesca è la trattoria e lei si prende l'altro. E poi lo fracassate sulla testa del vostro avversario. Prego. Vada. No. Prego, vada lei, trattoria. Eccolo qua. Una zero. Seconda manche. Prego, questa volta sceglie prima lo stellato. Sceglie prima lo stellato. Forza, veloce.